Cambiano gli attori, ma lo spettacolo, grosso modo, resta sempre lo stesso. Dalla gestione Graziani a quella di Bucaro non si sono visti grandi passi in avanti, soprattutto nella distanza dalla vetta, che è lontana oggi, così come lo era ieri. Iniziamo dalle differenze più evidenti, che certamente non riguardano il gioco. Il tecnico palermitano ha instaurato sicuramente un rapporto migliore con i calciatori. Graziani era solito rivelare quanto accadeva nello spogliatoio, gettando talvolta anche la croce addosso ai giocatori. Cosa che Bucaro si guarda bene dal fare, essendo stato, tra l'altro, anche dall'altra parte della barricata. Per quanto riguarda i numeri, con Bucaro c'è stato un miglioramento dei punti, che al momento si ferma a 2,12 di media partita, 5 vittorie, una sconfitta e 2 pareggi, 17 punti in 8 partite. Contro l'1,8 di Graziani, 8 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte, conquistando 27 punti in 15 gare. Bucaro ha all'attivo 2,6 gol realizzati e uno subito di media per ogni gara. A dispetto di Graziani, che aveva invece raccolto rispettivamente 1,6 e 1,2 di media. Bucaro però ha dalla sua il vantaggio di aver giocato un numero decisamente inferiore di partite, affrontando sempre squadre di media o bassa classifica. Per la precisione Budoni, Luparoma, Torres, Latina e Ladispoli. Il trend potrebbe mutare con i prossimi scontri diretti. Certo è che rispetto a Bucaro, forse Graziani aveva qualche scusante in più. Nonostante un atteggiamento decisamente sprezzante, il tecnico non ha avuto a disposizione una squadra ben organizzata e strutturata. Bucaro, invece, ha maggiori possibilità di lavorare con una rosa meglio formata. Insomma, più possibilità, ma anche meno alibi.